E' in piena Bersani, ho il piacere di presentarvi Alessandro Barbero, lo conoscete tutti, storico, sarà in onda con questa rete, con speciale in viaggio con Barbero il primo maggio, dedicata al lavoro il 12 giugno con Matteotti, 100 anni, dal deritto. Benvenuto professor Barbero. Pierluigi Bersani, la porto ai giorni d'oggi. Che bisogno c'è di dirsi antifascista se le elezioni si vincono ugualmente? Si mette nei panni di meloni? Bisogna vedere fino a che punto, perché ne abbiamo viste altre di fasi in cui si pensava di aver trovato la chiave giusta. Io non credo che la sia. Credo che voglia giocarsi la carta decisiva, cioè a dire, noi qui quando arriva il 25 aprile, io no, ma molti sono tutti lì a aspettare che la Meloni faccia un avvicinamento, un aggiustamento, un accomodamento con le 25. No! No, questi sono radicalmente, costitutivamente, sostanzialmente dei post-missini e cosa vogliono? Non accostarsi alla Costituzione antifascista, vogliono fare un nuovo inizio, mettere una cesura, un ricominciamento, una specie di rifondazione. Per questo vogliono fare il premierato autonomia differenziale, perché cosa vogliono mettere male nella Costituzione, secondo voi? Quindi non si accosteranno, si allontaneranno fino ad arrivare al dunque. Questa è la cosa che hanno in testa. Professor Barbero, le faccio vedere un passaggio di una nostra trasmissione pagadatti sulla Sette, in cui Ignazio Larussa ha spiegato cosa pensa dell'antifascismo. È così difficile definirsi antifascisti nella destra italiana. Io sono antifascista, per esempio, io non sono antifascista, perché l'antifascismo, il termine antifascista, è stato colonizzato da una parte dei vincitori della guerra civile, della guerra di liberazione, cioè da quella parte che voleva sostituire al fascismo una dittatura molto feroce, molto più feroce, la dittatura stalinista. Può essere difficile dirsi antifascisti, professore? Vabbè, dipende da dove si è cresciuti, in quale famiglia, in quale pezzo d'Italia. Perché c'è un pezzo d'Italia dove ormai da tre generazioni ai bambini si insegna che il regime ha fatto anche cose buone e che invece i partigiani erano degli scalezzacoli o peggio, dei ladri di galline o magari dei criminali e che quindi non c'è nessun motivo di festeggiare il 25 aprile. Una parte d'Italia è rimasta così e se tu sei cresciuto in quell'ambiente, io almeno me la spiego così, perché altrimenti che oggi, quasi un secolo dopo, sia così difficile dire vabbè ragazzi dai ammettiamolo, c'era una parte giusta e una parte sbagliata. Non c'è mai stata una guerra in cui fosse così evidente, no? Che conseguenze ha? Allora, se sei cresciuto in quel mondo, se sei cresciuto con quelle categorie mentali e culturali e poi ti trovi al governo del paese, può avere delle conseguenze negative, pericolose o in neutro? Beh sì, le ha le conseguenze pericolose e negative. Non tanto forse perché, come dire, rischiamo di essere di nuovo messi tutti in camicia nera, a marciare. Non credo che rischiamo di avere un governo che invaderà di nuovo l'Etiopia o dichiarerà di nuovo guerra agli Stati Uniti, come ha fatto Mussolini. Anzi, quest'ultima cosa mi sentirei di escluderla, effettivamente. Non dichiareremo guerra agli Stati Uniti. Dato il contesto almeno. Però le cose simboliche sono importanti. Se noi oggi stiamo ancora qui, in un paese che continua a spaccarsi fra chi sta con i partigiani e chi sta con i fascisti, allora vuol dire che queste non sono cose superficiali, sono cose radicate profondamente nell'identità italiana. E quindi che chi sta al governo e dovrebbe aver giurato su una costituzione antifascista, invece faccia così fatica a dirsi antifascista, il che vuol dire che sei fascista fondamentalmente, mi sembra. Perché o l'uno o l'altro... Questo a me sembra una cosa inquietante. Berzani. Lo è? Ma insomma, noi avremmo bisogno di... Io mi inchino alla capacità del professore di rendere... Avremmo bisogno di dire le cose semplicemente, soprattutto ai giovani, no? Allora, prima sentivo parlare di Romualdi. Sì. Ci deve essere a qualche parte nelle Techerai una trasmissione dove... Diciamo, lì c'è Romualdi, chiedo scusa, e qua c'è Vittorio Foa. C'è, deve esserci rispetto per tutti i morti. C'è, non è foa, ma si figura, è pietà per tutti i morti, eccetera. Però, insomma, dice Foa, bisogna tenere presente una differenza. Se vincevate voi, io sarei ancora in galera. Siccome ho vinto io, lei fa il senatore. Professore, mettiamoci allora dal punto di vista... Questa più volte ribadito dal ministro Lollobrigi, ad esempio, anche dal presidente del Senato, perché è presidente del Senato, in ragazzo la russa, loro dicono, guardate, per voi l'antifascismo è quello che dite. Per noi erano quelli che ci venivano a picchiare. Molti di noi sono morti per colpa di antifascisti. È un parallelo che si può fare. Ma il problema di quella parte d'Italia che ha continuato a insegnare ai bambini in casa che la resistenza era fatta da criminali, è che effettivamente, come dice, tanti italiani stavano dall'altra parte. Tanti italiani hanno sofferto nella guerra partigiana, tanti italiani si sono sentiti sconfitti. E questo è un dato di fatto. Ma in ogni guerra, ovviamente, c'è chi vince e c'è chi è sconfitto. E ci sono guerre in cui non è così evidente appunto chi sta dalla parte giusta e chi sta dalla parte sbagliata. La tragedia dell'Italia, secondo me, una delle tragedie dell'Italia, è proprio che questa difficoltà di dire, di andare al di là della propria memoria. La memoria di tante famiglie. È una memoria di persone che sono state, magari anche a Mattia o due nonni che erano fascisti. E uno è stato fucilato dai partigiani. Però con tutto il dolore che la mia famiglia ha provato per questo, forse perché faccio lo storico e so che la memoria non basta, perché ognuno ha la sua. E invece bisogna andare un po' più in là e arrivare alla storia che vuol dire io capisco il tuo punto di vista, però anche tu non puoi restare dentro chiuso, chiuso dentro a questa cosa. E professore, spostiamoci 30 anni dopo, gli anni di piombo, quanto possono aver influenzato la visione, possiamo dire forse distorta, che la classe dirigente di governo ha dell'antifascismo. il collegare l'antifascismo con gli ammazzamenti, le tragedie degli anni di piombo. Ma non saprei, perché secondo me, comunque, la visione negativa della resistenza, in quanto colonizzata dai comunisti, è una mistificazione che esisteva già prima. Ed è una mistificazione assoluta, naturalmente, perché la resistenza basta studiarla, basta cercare di vedere chi erano i partigiani. Tra i partigiani c'erano gli operai comunisti e i marchesi medaglia d'oro nella guerra d'Africa, come il comandante Campana, tanto per citare un protagonista della resistenza in Piemonte. C'erano i nobili e c'erano gli operai, c'erano i poveri, c'erano i ricchi, c'erano i comunisti, c'erano i cattolici, c'erano i socialisti, c'erano tutti. Tutti. Un pezzo d'Italia, non tutta l'Italia, ma un pezzo d'Italia che era totalmente trasversale. Oggi quelli che dicono no, l'antifascismo l'hanno colonizzato i rossi, gli stalinisti, quelli che volevano una dittatura peggiore. Ma queste cose le hanno sempre dette, ed è una mistificazione, ed è semplicemente una scusa per non andare a celebrare il 25 aprile. Mersani, la destra erede del fascismo si è mangiata la destra liberale nell'immaginario di tutti gli italiani. Cioè, alla fine sono quelli che si opponevano al comunismo o sono la russa, Meloni, Lolo Brigida? Ma, insomma, questa cosa dell'anticomunismo è sempre stata una scusa utile per non pagare d'assi, sotto tutti i profili, no? Cominciare col pagare le tasse, per esempio, tanto per dirne una. Per dirne una. Quindi, per guardare, figuriamoci, no, è chiaro che purtroppo io quante volte l'ho detto e l'ho anche pensato, qui non abbiamo avuto una borghesia che ha tagliato la testa al re e quindi non si è caricata di un codice civico, civile, democratico, liberale da sostenere in prima persona. Certo, in Audi diceva non si può essere liberali in finanze e in economia e illiberali in politica. Poi abbiamo avuto dei liberali immaginari alla Berlusconi che era un duopolista, cioè, qui dove sono i liberali in sto paese? Ce ne sarebbe un bisogno estremo, per amor di lì. Professore, prego, prego, non si chiude. No, se posso aggiungere a proposito degli anni 70 e così, no? ricordando che mediamente il brigattismo rosso, il terrorismo rosso se l'è presa con i riformisti più che con i fascisti sostanzialmente. Qualche volta che con i comunisti. Drammaticamente. Professore, ah, prego, no, la interrompo sempre. Vada, vada. No, è che questa cosa è collegata alla leggenda per cui l'antifascismo è una cosa da archeologi perché ormai, sono ormai, no, ormai è un tubo perché se guardiamo la storia della Repubblica dopo la Costituzione noi abbiamo avuto un estremo bisogno di antifascismo perché noi siamo il paese delle trame, delle bombe, dei tentativi di colpo di Stato dove c'è sempre stata presente la componente sottoterra, diciamo, potremmo dire statale, dei servizi e la componente nera fascista e omissina. Sia chiaro. Boh. Professore, vi chiedo naturalmente un commento a questo passando anche al tema non quanto sono fascisti i dirigenti ma quanto sono fascisti gli italiani. Questo è un problema diciamo su cui gli storici si sono esercitati fin dall'inizio, no, fin da quando è stato possibile cominciare a discuterne liberamente. Certo, al momento della liberazione piaceva pensare che il fascismo fosse stata una cosa imposta da una minoranza, no? Don Benedetto Croce diceva addirittura un'invasione straniera, l'invasione degli Ixos come nell'antico Egitto, ecco, una cosa strana alla storia d'Italia. Oggi tutti gli studiosi sono abbastanza d'accordo che non è così, c'è stato un consenso. Però attenzione, anche il consenso, mentre oggi noi ci siamo mummificati in questa cosa un'Italia antifascista è un'Italia che non vuole esserlo. Durante il regime in realtà si vede benissimo dai rapporti di polizia, noi li abbiamo per fortuna, no? Il mio mestiere vuol dire che noi leggiamo le carte che all'epoca erano segrete, quello che arrivava sul tavolo di Mussolini. E allora l'opinione pubblica variava come adesso continuamente variano le intenzioni di voto, la popolarità dei leader. Durante il ventennio una piccola minoranza erano fascisti fanatici e tutti gli altri stavano a vedere e in certi momenti tanti dicevano però, 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 effettivamente vedi come siamo rispettati all'estero, è certo, ma poi erano pronti a dire no, invece era un buffone quando cominciavano a cadere le bombe degli americani sulla testa. Quanto le categorie del capo che funziona e che comanda e della negazione del dissenso non è il momento di dividersi, il paese lo chiede, quanto sono vive in noi italiani? Questo secondo me l'onorevole Bersani lo sa molto meglio di me perché gli italiani di oggi lui li conosce meglio di me io conosco di più quelli del medioevo. Allora, arrivi alle ultime... si fermi davanti alle generazioni posteriore al fascismo. Nasce col fascismo la voglia di avere un capo e di tacitare chi rompe? No, in realtà io temo che sia una spinta presente nell'animo umano comunque, il desiderio che ci sia un capo che tu puoi convincerti che lui è bravissimo, che ha sempre ragione e comunque la responsabilità se la prende lui. Ecco, nella storia umana in realtà sono molto più frequenti i regimi di questo tipo che non quelli democratici dove si riesce a condividere le decisioni e le responsabilità. Peccato che quasi tutti i grandi momenti della storia umana li hanno fatti invece quelle società che sono riuscite a darsi una struttura democratica. L'Atene classica, la Repubblica di Roma, i comuni italiani del Medioevo, le democrazie del Novecento, i vertici della storia umana li hanno raggiunti quelle società lì, non le monarchie assoluti. Che hanno il coraggio di essere liberi. Bersani, quanto siamo noi a cercare il capo in una società così debole, così frustra? Ma il progresso è forse questo che una volta doveva essere il maschio alfa, adesso può essere anche una donna, cosa vuoi mai? ma ci sono stati passi avanti. Ma insomma, guardiamola così, questa nostra destra con la coda lunga come abbiamo detto fin qui, però assomiglia a tutte le destre europee sostanzialmente, no? Sono identitarie, antiglobaliste, spesso su basi etniche, non gli immigrati, vedono la modernità come una decadenza morale e quindi, I gay, dio, padre e famiglia, il femministe, rompicoglione, tutte queste cose qui, sono negazionisti, quindi se la prendono anche con la scienza perché negano il clima, negano i vaccini e negano la storia. Cioè, tutte queste destre, nessuna di queste, cioè, nessuna fa i conti con le destre del Novecento, con il nazismo e con il fascismo. né in Germania, né in Ungheria, né in cose, si rifiutano, si rifiutano. Perché? Perché tutte queste cose messe assieme pretendono un capo. Quindi è una destra che ha messo il dito nella piaga del disagio e lo scontento del ripiegamento e della globalizzazione, ci ha messo dentro le sue teorie e a poco a poco costruisce la mistica del capo. La mistica del capo. noi siamo su questa strada. Questa strada porta contro un muro, sia chiaro, sotto il profilo economico e sociale. È una strada devastante. Poi contiene il nazionalismo, Mitterrand diceva che i nazionalisti portano sempre alle guerre, speriamo di no, ma certamente non portano a una situazione, diciamo così, colloquiale. La democrazia è sempre in salita, giusto? È così, nella storia umana, per amor di Dio. Però ha sempre portato i risultati quando ci si è riusciti. Ecco, teniamolo qui. Pierluigi Versani, professor Barbero, grazie di essere stati con noi. Benvenuto Stefano Zurlo.